Ciao, sono Alice! È uscito il nuovo volantino Conad! Guardiamolo insieme! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi! Perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra! Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione! Su TrovaVolantini.it Le offerte della tua città A portata di un click! Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su TrovaVolantini.it Alla stimola a parte! Grazie a tutti! Lo so che vuoi vedere l'anteprima Eurosteen. Non manca tanto, dai! Ti piace MDI? Continua a seguirci e vedrai l'anteprima prima di tutti! Ehi, ricordati che giovedì uscirà il nuovo volantino Lidl! Non perderti l'anteprima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!